E' iniziato oggi, ed è stato subito rinviato al 6 giugno, il processo contro Claudio Alberto, Mattia Zanotti, Nicolo Blasi e Chiara Zenobi, i quattro anarchici che sono accusati di aver lanciato bottiglie Molotov contro il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, la notte del 13 maggio del 2013. Insieme al maxiprocesso per gli scontri del 3 luglio 2011, questo è certamente il processo contro attivisti notav che più è sotto i riflettori dell'opinione pubblica. Per i quattro, infatti, la procura di Torino, con i PM Andrea Padalino e Antonio Rinaudo, ha chiesto rinvio a giudizio per il reato di terrorismo. Così, per la prima volta, un processo contro i notav si svolge di fronte a una corte d'assise, che è presieduta, in questo caso, da Pietro Capello. Tutti e quattro gli imputati sono ancora in carcere dal 9 dicembre dell'anno scorso, anche se la Corte di Cassazione si è pronunciata contro la formulazione del reato di terrorismo, che giustifica la custodia cautelare. Il processo si svolge, ancora una volta, nell'aula bunker del carcere delle Vallette, nonostante le proteste degli avvocati Claudio Novaro, Eugenio Losco, Giuseppe Pelazza e Oreste Domignoni, difensori degli imputati, che contestano l'uso di una sede che è stata utilizzata in passato per i grandi processi di mafia e terrorismo, male equipaggiata e difficile da raggiungere. Questa mattina, fuori dall'aula, si sono radunati circa 200 notav che si sono dati turni per assistere al dibattimento a gruppi di 50. In molti indossavano le coccarde bianche-rosse scelte come simbolo di questo processo, con gli stessi colori delle bandiere con il treno crociato. Non ci sono stati particolari momenti di tensione, tranne una contestazione verbale contro il PM Rinaudo al termine di un'udienza ben gestita dal presidente Capello, che ha anche disposto che i quattro fossero raggruppati in un'unica gabbia vicino agli avvocati. I compagni dei quattro anarchici hanno salutato e dialogato a distanza con i detenuti. Questo primo dibattimento è stato dedicato alle costituzioni di parte civile. Si sono scostituiti la presidenza del Consiglio dei Ministri, la società LTF e il sindacato di polizia SAP. Gli avvocati si sono posti alla costituzione di parte civile e hanno sollevato anche diverse eccezioni procedurali. L'accusa di terrorismo viene motivata dalla procura perché il lancio di Molotov, che aveva distrutto un compressore noleggiato, avrebbe avuto l'intento di recare pregiudizio all'immagine e alla sovranità dello Stato, oltre che di evitare che l'Unione Europea finanzi la Torino-Lione. Si prevede una durata di parecchi mesi, con decine di parti lese tra gli agenti in servizio e numerosi testimoni da ascoltare. Nel frattempo i quattro giovani restano in carcere.